Buona serata, benvenuti a questo spazio elettorale a pagamento in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno il 20 e il 21 settembre. Come sempre l'invito è quello di andare a votare. Questa sera conosciamo Francesca Tricca, benvenuta Francesca. Buonasera Emanuela e grazie per questo invito. Allora Francesca raccontiamo chi sei, i tuoi hobby, le tue passioni. Ho 45 anni e sono mamma di tre figli, sono laureata in economia e commercio e attualmente lavoro in Ciar, un'azienda del nostro territorio, precisamente di Borgo Santa Maria e nel tempo libero mi dedico al volontariato, presso braccia aperte volontariato. Nel mio passato ho avuto esperienze manageriali e nello specifico mi sono occupata di comunicazione, marketing, personale e organizzazione di eventi. Amo profondamente il San Bartolo e spesso mi diverto a fare delle lunghe e belle passeggiate. Amo il nostro mare, amo uscire in barca a vela o in motoscafo e mi piace tantissimo il fitness. Sono una persona solare, aperta, amo stare in compagnia, amo stare in mezzo alla gente. Ecco tutto qui. Insomma tanti interessi e tante passioni proprio legate al nostro territorio. E allora perché hai deciso di candidarti? Allora io amo profondamente la provincia di Pesaro Urbino e quindi ritengo che l'impegno di persone nuove, donne e perché no assolutamente provenienti dalla società civile possa essere un valore aggiunto per innovare la politica e per apportare un cambiamento, una crescita e un miglioramento proprio all'intero territorio. Ecco quali sono i tuoi obiettivi ecco proprio nel nostro territorio, nella provincia di Pesaro Urbino? Il nostro territorio è ricco di eccellenze che occorre valorizzare ovviamente per aumentare l'attrattività e per offrire anche delle nuove opportunità ai nostri giovani, delle opportunità lavorative. Quindi siamo arrivati a questo punto, a un punto di svolta. Occorre proprio invertire la tendenza e andare a contrastare questo fenomeno di emigrazione, questa fuga dei cervelli e fuga delle professionalità all'esterno della regione Marche. Quindi occorre attirare a noi all'interno del nostro tessuto formativo e produttivo proprio i giovani e quindi a mio parere proprio la regione Marche deve attuare tutta una serie di accorgimenti per supportare tutto questo tessuto produttivo e formativo. Pensiamo per esempio alla nascita di un osservatorio del territorio, un osservatorio del lavoro del territorio marchigiano che funga proprio da vero e proprio strumento di analisi e controllo dell'andamento del lavoro nelle Marche. Questo strumento può essere di interscambio informativo, un mezzo di interscambio informativo con le famiglie e gli studenti stessi al fine di indicare loro quali siano i percorsi formativi più idonei e più adatti proprio per far trovare loro in maniera più semplice lavoro nel nostro territorio e quindi teniamo con noi i nostri giovani e rafforziamo le nostre imprese e le nostre attività. Ricordiamo anche quella che è la terza missione delle università, cioè università e istituti di ricerca devono apportare tecnologie all'interno del tessuto produttivo, quindi entrando all'interno delle aziende, formando i collaboratori e permettendo alle aziende stesse di aumentare la loro competitività a livello nazionale e aiutarle anche nella internazionalizzazione. È reputo necessario anche il sostegno importante delle start-up e anche il riconoscimento legislativo di nuove figure professionali, come per esempio l'unico tecnico. Altro argomento che ho molto a cuore sono il sociale e la sanità. A mio parere affinché nessuno resti solo è opportuno supportare i marchigiani in difficoltà attraverso una rete di protezione di tipo sociale e sanitaria. Per esempio pensiamo a quelle che sono le categorie più fragili, come gli anziani, le persone sole, i disabili o le persone che hanno gravi problemi di reddito. Pensiamo per esempio anche all'importanza nel supportare tutte le associazioni che collaborano sul nostro territorio, le associazioni no profit, quindi occorre assolutamente aiutarle perché fanno un lavoro in mane sul nostro territorio. Altra cosa fondamentale è il sostegno ai progetti di vita. Tante sono le giovani coppie che hanno bambini, soprattutto tra gli zero e i tre anni, e hanno grandi pensieri immaginando di non poter dedicare ai loro figli sufficienti cure. E quindi la Regione in questo caso, a mio parere, dovrebbe intervenire proprio con un sostegno per permettere ingressi facilitati agli asili nido e allo stesso tempo permettere azioni di welfare aziendale proprio a sostegno delle famiglie. Tra gli argomenti importanti per la nostra Regione Marche c'è senza dubbio la sanità. Tanti dibattiti, no? Ospedale unico, no? Sì. Ospedali dell'entroterra. Qual è il tuo pensiero? Ritengo sia necessario pensare a una rete di strutture sparse sul territorio, al fine di coprire in maniera capillare proprio tutto il nostro territorio. Ritengo molto importante poi la valorizzazione delle professionalità dei nostri medici e dei nostri infermieri. Ritengo anche molto importante accorciare quelle che sono le code ai pronto soccorso e ridurre, diciamo, tutte quelle che sono le lunghe liste d'attesa. Ovviamente si dovrà riuscire a diminuire la lunga burocrazia che ad oggi è veramente molto complessa e formare e permettere proprio a tutto il nostro tessuto, anche dell'entroterra, di sviluppare le professionalità e dare valore e importanza alla medicina di base e ai vari enti che si trovano all'interno del nostro territorio. Un altro settore molto importante che interessa le numerose aziende marchigiane è l'economia. Certo, a mio parere bisogna proteggere, difendere e sostenere tutte le vocazioni economiche del nostro territorio. Partiamo dal mare, le colline, le montagne, i bellissimi parchi, le città rinascimentali, i borghi medievali. Beh, le nostre marche sono davvero fantastiche, sono meravigliose e noi che ci abitiamo non possiamo che amarle fortemente, così anche tutti gli esterni che arrivano si innamorano della nostra regione. Ma venendo nello specifico a parlare proprio della nostra economia, mi piacerebbe parlare della nostra agricoltura, per esempio. Pensa Emanuela che il 65% del nostro territorio è terreno agricolo e le marche sono la terza regione italiana nella produzione del grano duro, ma purtroppo non è ben sviluppata la sua commercializzazione e quindi abbiamo delle carenze. Occorre anche in questo caso intervenire attraverso logistica, attraverso strutture che permettano innanzitutto l'aggregazione dell'offerta, una migliore possibilità di commercializzazione del prodotto e bisogna lavorare assolutamente bene e profondamente per la standardizzazione del prodotto aumentando nel più possibile la qualità. Un'altra cosa che mi sta molto a cuore è proprio la Blue Economy. Siamo un paese che ha 174 chilometri di costa e tante sono le attività quindi legate al mare, a partire dalla pesca, l'acquacoltura, la cantieristica, l'industria di trasformazione proprio del prodotto o addirittura anche il nostro turismo costiero. E bisogna osservare il tutto con un occhio superiore aggregativo e solamente attraverso l'unione tra il pubblico, il privato e le università sarà possibile continuare a valorizzare le aziende già esistenti ma ad avere anche dei nuovi spunti per far nascere delle nuove opportunità e delle nuove iniziative. È molto importante anche a mio parere, adesso passiamo da una parte all'altra ma sono tutti temi che ho molto a cuore, anche la cultura e il turismo. Per esempio dobbiamo ricordare che ogni comune ha diritto a riscoprire la propria vocazione culturale quindi proprio per riqualificare, proteggere e valorizzare il nostro territorio è importante ricordare tutta la grande cultura che abbiamo proprio nel nostro territorio e per poter fare questo è importante la comunicazione. Per quanto riguarda il turismo si apre un altro mondo. I flussi turistici marchigiani sono flussi prettamente legati alla costa e sono flussi di persone italiane o per lo più europee ma abbiamo un potenziale davvero grande, davvero illimitato e che andrebbe a sfruttare tutto il nostro entroterra ma il potenziale grande è anche quello del turismo internazionale e quindi anche in questo caso a mio parere la regione potrebbe fare davvero un lavorone ponendosi proprio come regia di supervisione attraverso lo studio di quelli che sono tutti i flussi turistici e riuscire a trovare dei modi per captare e per attrarre il turismo proprio all'interno della nostra regione quindi uno scambio di idee e di informazioni proprio tra regione e tutti gli operatori turistici. La regione dovrebbe intervenire attraverso anche una formazione mirata. Parliamo per esempio delle lingue ormai tutti gli operatori turistici dovrebbero parlare almeno l'inglese quindi entrare anche in maniera capillare, entrare nell'entroterra formando la nostra gente e permettendo di rafforzarci. È importante anche il sostegno per quanto riguarda la standardizzazione che permette un aumento della quantità e della qualità delle strutture ricettive. E allora Francesca perché il pubblico di Rossini TV, il pubblico che sta guardando questo programma, ti deve votare e come deve farlo. Il mio appello a questo punto è per tutti voi che mi state guardando e perché no soprattutto a voi donne perché voi dovete sapere che la mia grinta, la mia grande forza di volontà è il motore trainante per il raggiungimento degli obiettivi e quindi è arrivato il momento di cambiare le marche, le nostre belle marche e quindi vi faccio un fortissimo invito al voto. Il 20 e il 21 settembre andate a votare. La mia candidatura è in ticket con Mirko Carloni, una persona che stimo molto, fortemente presente sul territorio, chiara, precisa ma soprattutto concreta. Quindi il 20 e il 21 settembre votate per Acquaroli Presidente, votate Lega e sulla scheda scrivete Tricca e Carloni. E allora grazie Emilia Francesca Tricca, grazie, andate a votare chiaramente il 20 e il 21 settembre. Buona serata. Grazie, grazie mille.